Ciao ragazze e ragazzi, oggi vi presento un abito che sicuramente tutte le abbiamo in armadio perché saranno due o tre anni, anche quattro forse, che questo abito va molto di moda. È un abito di lana abbastanza pesante e invernale, ma siccome quasi tutti questi modelli le hanno fatti senza maniche spesso stanno là nell'armadio perché per l'estate è troppo pesante, per l'inverno invece è molto leggero. Non parlando del fatto che tantissime donne, a maggior ragione alla mia età, vogliono nascondere le braccia sia perché possono essere un po' più importanti, sia perché magari abbiamo il problemino di tricipidi e quindi restano nell'armadio eternamente. Io consiglio di indossare questo abito con una magliettina fine, che sia pizzo o di cottone più o meno dei colori che ha l'abito, così lo salviamo e quindi lo possiamo indossare. In questo caso indosso un paio di collant 20 denari di neri e un paio di stivaletti corti con un tacco 10 più o meno. Così è un outfit da sfruttare, un abito che altrimenti sta perso nell'armadio. Ragazzi spero che vi piaccia il mio outfit, mettetemi un like se è così, iscrivetevi al mio canale, vi mando un bacio, ciao a tutti! Grazie a tutti!